Buonasera, stasera numerosi cittadini ci hanno informato di una problematica a via salita Torrecaveta. Sì, infatti c'è un misterioso sgorgare d'acqua dal centro della carreggiata con un conseguente avvallamento e quindi c'è bisogno di un intervento tecnico urgente per accertare almeno le cause di questo problema e fortunatamente ci sono ancora consiglieri comunali che si ricordano dei problemi della cittadinanza perché al Comune di Monte di Procida un consiglio comunale che mostra vivacità e dinamicità solo tra chi vuole uscire e se scappare e chi invece sta buttando calci per entrare. Quindi in questa confusione, in questo caos da settimane non ci si occupa dei problemi del Paese e io rivolgo un appello accorato alla maggioranza. Qualsiasi intenzione abbiate, qualsiasi cosa vogliate fare in prospettiva ricordate però che avete dei doveri nei confronti della cittadinanza, occupatevi dei problemi della gente. Quindi noi questa sera protocolleremo a mezzo PEC un sollecito urgente per far fare un sopralluogo e capire se vi è un effettivo rischio per la comunità. Grazie. Grazie Grazie Grazie